Sono passati dieci anni oramai dalla morte di Natuzza Evolo, una donna semplice del popolo, diventata nota e famosa come la mistica delle stimmate di Paravati, ma ancora oggi si parla tantissimo di lei e sono molti i suoi seguaci su Facebook e anche continuano a proliferare nuovi gruppi di preghiera legati a lei e al suo nome. Questo perché accade ancora? Cercheremo di capirlo in questa puntata insieme al nostro ospite in studio Luciano Regolo, giornalista con direttore di famiglia cristiana e uno dei massimi esperti di Natuzza, anche perché tu sei suo figlio spirituale. Ma raccontaci un pochino la tua storia con lei. È una storia lunga, diciamo che si articola negli anni perché l'ho conosciuta più a volta da ragazzino, avevo 17 anni e una mia amica mi portò lì perché mia madre aveva avuto dei problemi di salute, ma io non credevo assolutamente a lei, mi sembrava quasi l'immagine di superstizione, di una mentalità retriva, dicevo la maga, la chiamavo così. Siamo andati però già allora, parliamo degli anni 83-84, c'era una folla enorme e quindi ci dissero no, veramente non potete parlare con Natuzza perché non avete prenotato. Allora io ho detto, dicevo alla mia amica, ecco mi hai portato qui dalla maga e lei neanche ci riceve. Nella pausa pranzo tutti andavano via perché lei faceva mangiare i suoi figli e il marito, era una mamma di famiglia a tutti gli effetti e quindi io mi senti ticchettare sulla spalla, avevo all'epoca i capelli lunghi e ricci e mi dice, ricciolino adesso finisco di friggere le pate e vieni tu. E allora lei mi dice, tu vorresti fare, ma preciso, lettere classiche con indirizzo archeologico, mentre normalmente si esprimeva sempre in dialetto, dice però non è chista strada tua, la parola, il tuo mezzo e un giorno scriverai anche di Gesù. E cosa ti è sembrata questa sua affermazione? Ma mi sembrava come se fosse una matta che avevo davanti. Poi saltiamo di un 4-5 anni, ho una cugina che si chiama Patrizia, che per me è come una sorella, si ammala molto gravemente di tumore, con metastasi da per tutto eccetera e le dicono che non c'è più niente da fare. Quindi io diciamo in quella circostanza, per quegli strani merletti che tessere, lei parlava proprio questo, diceva, i merletti di Dio. La vicina di letto nell'ospedale Sant'Orsola di Bologna era la sorella di una carissima figlia spirituale di Natuzza, mi mandano d'urgenza da Natuzza per parlare di Patrizia e lei mi dice, avete pregato con così tanta fede la Madonna che vi ha fatto la grazia. È stata così, Patrizia è ancora qui, è una sorella carissima. E da lì, nonostante io avessi visto però tutto questo l'avevo messo in un dimenticatoio, forse perché anche come giornalista non l'avevo mai scritto nulla, perché era troppo impegnativo addentrarsi in quel mistero di fede e di amore. Avevi un atteggiamento ancora un pochino incerto, insomma, ad affrontare queste tematiche. Anche quando ho visto quello che lei era, anche quando però forse non ero pronto, non ero pronto a rispondere a una chiamata probabilmente. Ti interrompo un attimo.